saperle privilegiare ciascuno senza che possa diventare una competizione interna. Io penso che si possa anche in queste elezioni europee, per capirci, crescere tutti quanti, se ci riusciamo e se i cittadini ci daranno il loro consenso, ma non mi pare che ci sia da parte di alcuno la volontà di sottomettere la tenuta del governo, il lavoro del governo, la velocità del governo all'interesse di partito legato al piano elettorale. Quindi sono soddisfatta e positiva.